Falegnameria Paludetto, da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Andre parliamo di domenica, partita insidiosa, Tortona è una squadra che adesso è un po' alla volta rispetto all'inizio di un giorno d'andata complicato, adesso un po' alla volta probabilmente si sta riprendendo e deve riprendersi perché i loro obiettivi sono importanti, le loro ambizioni sono alte e quindi sicuramente in casa devono provare a fare risultato, hanno costruito una squadra con grandi aspettative e quindi sicuramente sarà una partita per loro importante un bel banco di prova, sicuramente anche col cambio allenatore per forza con Walter gli darà una bella carica emotiva e anche agonistica per affrontarci, quindi mi aspetto onestamente è una partita di quelle proprio vere. Ti volevo solo chiedere da capitano, come va l'inserimento degli ultimi mesi, gli ultimi non viene di arrivare, non è di importanza certo? Devo dire che si stanno ambientando bene, sono due ragazzi disponibili, due ragazzi che hanno voglia di lavorare, che sono molto dediti al lavoro, si stanno un po' alla volta integrando nel gruppo, hanno visto che c'è stato e c'è subito bisogno di loro perché giocando ogni tre giorni può succedere di tutto e quindi si sono fatti trovare pronti e un po' alla volta sicuramente daranno sempre qualcosa di in più, ma onestamente mi piacciono entrambi e sono due elementi positivi all'interno del gruppo e questo è ciò che conta adesso. Siete rileccionato prima Walter, anche emotivamente comunque ritrovarlo per la prima volta d'avversario, in realtà è che comunque se è quello che ha vissuto di più, ci sarà qualcosa di particolare? Beh, è inutile nasconderlo, per me sì, onestamente, con Walter abbiamo vinto tutto insieme e quindi è una grande emozione, sarà bello poter riabbracciarlo prima della partita e quindi per me è una partita diversa, speciale a ritrovarlo e mi farà molto molto piacere. Senti a terza preferita di fila? Sì, esatto, è un bel trittico questo, per momento bene perché già due su tre è un ottimo risultato, tre su tre è un grandissimo risultato e quindi noi lottiamo per quello e anche oggi abbiamo fatto un buon allenamento. Speriamo di riuscire a finire al meglio questo terzetto di squadra e comunque insidioso perché giocare a Varese sappiamo che è una bolge, giocare a Ljubljana che non avevano niente da perdere, da dare alla Coppa è stato ancora più insidioso che ne è venuta fuori una partita assurda. domenica invece abbiamo probabilmente la partita vera perché andare a giocare fuori casa con una tua contender perché alla fine lo è, anche se la classifica in questo momento non gli dà quella posizione, però quella sarà la partita. Quindi recuperare le energie da questi viaggi e niente, andare a fare la migliore partita possibile e poi dopo vediamo. Senti, andrà cambiando competizione, adesso ho tutti due partite in casa in EuroCup, se non è un momento decisivo. Sì, decisive noi dobbiamo vincere e guardare cosa fanno gli altri, perché è vero che avremo lo sconto diretto con il Prometei, però è anche vero che hanno due vittorie in più, quindi dobbiamo stare a guardare, dobbiamo vincere e poi dopo guardiamo quello che hanno fatto gli altri. È inutile stare a dire dobbiamo vincere tutte e tre, è vero, però purtroppo siamo in condizioni di dover guardare cosa hanno fatto gli altri. Se ne guardano solo qua, passano loro. Esatto, quindi bisogna stare a guardare, dobbiamo pensare alla nostra partita, una alla volta e poi vedere e sperare che perdano qualche pezzo per strada e dopo noi cercheremo di approfittarne facendo una grande partita in casa contro di loro. Se ne c'è un po' di rimpianto per qualche partita lasciata per strada in Coppa? Sì, è ovvio parlare così, col segno di poi, sì, abbiamo perso qualche partita in là, qualche infortunio, qualche assetto ancora da rodare in questo tipo di gioco che facciamo quest'anno, è diverso magari per tanti, magari un'alchimia di squadra con tanti giovani, tanti nuovi, tanti inesperti, chi più è più esperto. Quindi ci poteva stare onestamente per i primi mesi e quindi sapevi che da qualche parte a qualche punto l'avresti perso ed è successo in Coppa. Non in campionato invece dove onestamente a parte la partita di Pistoia, le altre sono partite che abbiamo perso probabilmente per merito di l'avversario più che per merito nostro, per demerito nostro. Quindi onestamente ci sta. Adesso secondo me siamo molto più quadrati e molto più solidi, quindi sono positivo per questo finale di campionato, ormai finale. Senti, sono più solidi che vi permetteranno anche di soprire la scena di Jordan? Sì, 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 dai. Jordan è importante, Jordan è un giocatore esperto, Jordan è un giocatore che sa giocare. Adesso vuol dire che qualcun altro dovrà fare qualcosa in più. Però credo che nelle situazioni di emergenza, quando c'è senso di emergenza, senso di urgenza come dicono gli americani, è lì che si vede chi ha qualcosa da tirare fuori in più. Almeno io sono stato abituato così nella mia carriera quando c'era qualche difficoltà nel gruppo, comunque nel roster, è lì che devi riuscire a tirare fuori qualcosa in più. Quindi fuori dalla tua situazione di comfort. Ed è lì che vedi veramente chi ha quella marcia in più per arrivare fino in fondo. Speriamo di averla. Siamo più soliti, legandosi anche i due luoghi che sono arrivati dal punto di vista di gioco. Come siete o state cambiando? Beh, sicuramente adesso abbiamo più dimensione anche interna, perché prima era un Tex, tienici uniti lì sotto, aiutaci tutti. Adesso con Fee, con Cabanghele, abbiamo una doppia dimensione che è da grande squadra. Invece con Max adesso è un altro giocatore che può giocare il pick and roll, che ci dà una dimensione anche a livello di ball ending, di palleggio, di coinvolgimento degli altri, che non finisce solo a me e a Marco. Ma lui invece è una doppia dimensione, che si può coinvolgere gli altri, può giocare un pick and roll per un passaggio, ma anche perché lascia un tiro. E non è solo un finisher, non è solo uno scorer, è anche uno che sa coinvolgere. E quindi ci può dare una grossa mano, perché capita una partita storta mia, o io che sono fuori, Marco che fa una partita storta. Quindi dopo un altro che ti dà una mano ci serviva. Onestamente lui un po' alla volta quando avrà preso il ritmo giusto sarà sempre meglio.